Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, in cui si suggerisce che solo grazie all'immaginazione sia possibile comprendere appieno la realtà, in un continuo scambio tra storia personale e collettiva. Il messaggio del libro è che la realtà non può essere mai pienamente compresa senza un atto creativo, che unisce il passato e il presente in una narrazione che va oltre i fatti concreti. Attraverso il romanzo, l'autrice invita a riflettere sulla forza dell'immaginazione come strumento di comprensione e di connessione tra le vicende individuali e gli eventi storici. La trama del libro Vento di marzo, della scrittrice Anna Paola Sanna, pubblicato dalla casa editrice Giovane Holden, è la seguente. Enrico è scappato con la bicicletta di Alberto. Questa frase captata dai ricordi confusi della propria madre, spinge Leo Narrante a ricostruire, un po' basandosi su racconti familiari, molto inventando quando la certezza dei fatti le manca. Le storie di tre giovani vissuti nel secolo precedente, Enrico, Tullia e Alberto, tre ragazzi romani, vivono dapprima una tormentata storia d'amore che esplode, con conseguenze impensabili, nell'estate del 1937. Da lì le vicende dei tre giovani e delle loro famiglie si mescolano, in un crescendo sempre più drammatico, con gli eventi storici che in quegli anni travolsero il mondo. Ognuno dei tre protagonisti segue la propria strada, segnando così irreversibilmente la propria formazione e il proprio destino. Ognuno arriverà, da una reazione iniziale tutta emotiva agli avvenimenti, a maturare, in pochissimo tempo, le proprie scelte personali. La narratrice ripercorre gli itinerari dei tre personaggi, a volte seguendo la falsariga dei diari di Enrico che, dopo aver combattuto in Spagna, torna in Italia ed entra nella resistenza, partecipando a un'operazione concertata tra alleati e forze partigiane. Più spesso, come dietro una cinepresa, il suo sguardo insegue le vicissitudini degli attori principali spostandosi tra Spagna, Francia, America e Appennino Reggiano. Durante un arco temporale che abbraccia la prima metà del secolo breve, l'io narrante infine ritrova la propria memoria familiare e storica, venendo a capo di un intreccio che le pareva inestricabile, anche con l'aiuto di una buona dose di immaginazione. D'altra parte, afferma l'autrice nell'epilogo, senza immaginazione non si può veramente capire la realtà. Ed è proprio per questo che, per fortuna, esistono i romanzi. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterari e iscriviti al canale.